perfetto ragazzi si continua su ditterelli in compagnia del vostro diabotex allora allora si continua con questa serie di campionati anche perché avete visto che c'è un evento in corso con le prossime due gare le prossime due gare e anche le ultime due gare diciamolo di questo evento quindi magari regoliamo un po il volume qui perfetto vediamo un po se è tutto regolare ai 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 forse lì poi c'è pioggia nel nell'ultima gara no da come si vede c'è una nuvola staremo a vedere non lo so non lo so intanto qui pensiamo a far bene poi vediamo il resto pronti vai due gare ragazzi ci attendono allora ripara veicolo vediamo un po se c'è qualcosa da riparare e te pareva è ovvio che c'è qualcosa da riparare il motore radiatore qui ero il cambio anche è fondamentale ragazzi ecco va bene così dai va bene così a via tappa ragazzi si parte vediamo un pochettino due uno via vamo su vamo su bradone su vedo che questo gioco mi piace quindi va benissimo così e continuare in grande sfida tranquillo tranquillo occhio destra 5 suddosso salta continua nell'avvallamento piccolo dosso 40 dopo bivio sinistra 3 lunga ok ok ragazzi va bene salta dosso destra 6 suddosso salta chiude 5 lunga 40 tieni sinistra suddosso salta e salta cunetta attenzione in mezzo sul salto grosso sinistra 6 certo destra 6 suddosso 80 nell'avvallamento attenzione forse salto dosso sinistra 6 60 curva angolo destra non tagliare perfetto vado già in ritardo molto di tanto viaggio con molto ritardo ma vabbè ecco qua perfetto perfetto sinistra 5 lunga su cunetta chiude 120 corriamo un po brado qui maremma cugliare dai sinistra 5 suddosso salta forse non tagliare 80 destra 5 chiude 4 suddosso non tagliare 40 torno sinistra 3 corri niente attenzione in mezzo sul salto grosso non corre sinistra 3 e mezza lunga apre suddosso 80 perfetto e andiamo dai e andiamo attenzione sinistra 4 suddosso salta forse dopo non tagliare 150 ah ok di qua perfetto ma me è che non vedo lì il radar no il radar le indicazioni su vabbè lasciamo stare lasciamo stare sinistra 6 lunga suddosso 40 forse salta addosso 130 sinistra 4 lunga suddosso 250 dritto attraverso appallamento destra 3 e mezza lunga chiude e apre suddosso dai così ah grande destra 6 attenzione sinistra 4 suddosso salta forse non tagliare dritto attenzione sinistra 4 suddosso salta con calma con calma maremma ok 60 eh qui non so ragazzi in che posizione concludo ve lo dico sinistra 5 e mezza lunga 60 destra 3 e mezza lunga apre suddosso 80 abbastanza lunghetta sto circuito qui eh sinistra 6 abbastanza aggressivo anche occhio sinistra 2 vabbè tutti in ritardo vado vado tutto in ritardo maremma si viala dosso destra 4 mezza lunga dosso salta 100 occhio dosso salta destra 6 attraverso appallamento sinistra 4 suddosso sinistra 4 lunga vai bradone su bradone piccolo dosso 80 tanto ragazzi non se la faccio non se la faccio fidatevi che non riesco non riesco neanche a fare un intermedio come si deve destra 5 su 100 ecco qua la curva l'ho presa in maniera abbastanza decente possiamo dire abbastanza in mezzo sul dosso salta 40 sinistra 4 sul lungo dosso 100 destra 6 sul salto continua per 100 su punetta 100 oltre il bivio dosso ai 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 maremma maremma ai 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 te pareva ho fatto un finale ragazzi col botto come si dice in tutti i sensi però aspettate eh sono in quarta posizione non credo che riesco a recuperare la terza posizione quindi qui tenterò di mantenere il quarto posto io ci provo ragazzi non vi prometto nulla però ci provo non vi posso promettere quello che perché non va vai ultimo circuito ah ok sereno anche qui solo nel secondo circuito diciamo che sono andato abbastanza decente lì perché segna diciamo verde no quindi credo che sono andato un po' decente va comunque sono in quarta posizione ora vediamo un po' di mantenere questo primato cioè primato questa quarta posizione vai tenterò di mantenerla 2 1 via corri stai calmo ecco la macchina già va per fatti suoi in tutti i sensi eh sinistra 5 sudosso forza salta sinistra 6 diciamo che l'ho distrutta la macchina però va bene così dai ragazzi non c'è problema destra 6 mezza lunga attraverso avvallamento dosso forza salta dosso 40 dopo vivio dosso e tieni sinistra sudosso dosso il mezzo sudosso forza salta destra 6 tranquillo tranquilli attenzione dosso salta il mezzo sul salto grosso sinistra 6 dopo vivio se c'è qualche curva poi il mezzo sudosso salta il mezzo sudosso salta 130 dosso dopo vivio sinistra 5 continua sui dotti chiude cento forza salta dosso sinistra 3 continua per cento dopo vivio non tagliare un tempo decente maremma cinghiala finalmente dosso 40 oltre il vivio destra 5 sudosso non tagliare apre e chiude 4 lunga non tagliare sinistra 5 lunga sovrapponte non tagliare dosso 130 dosso salta dosso maremma cinghiala destra 3 mezza lunga palmo sinistra 3 lunga apre non tagliare sì non taglio non taglio tranquillo destra 3 sudosso apre dopo vivio dosso forza salta dosso sinistra 5 tieniti dentro 40 sì sì arrivo 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 sinistra 4 apre sudosso dosso destra 6 su cunetta ma ragazzi forse anche qui riesco a piazzare attenzione destra 6 non sono riuscito però però me la sto cavando bene 40 dosso 40 sinistra 5 tieni a destra in avvallamento profondo sono un po' concentrato quindi se parlo poco è solo per questo motivo e non peraltro dosso cunetta destra 4 lunga cerca di migliorare brado cerca di fare il tuo gioco come sai fai il tuo dovere bradone sinistra 5 sudosso forza salta destra 6 attraverso avvallamento dopo vivio dosso sinistra 5 sudosso destra 6 non tagliare sinistra 5 apre sudosso 40 attraverso avvallamento tieniti a destra sudosso forza salta destra 6 nell'avvallamento che forse qui riesci a farla un plane sinistra 6 su 100 40 vai anche qui pare che ho recuperato qualcosina vediamo ora nel finale qui perché il circuito inizia a farsi abbastanza balordo curve troppe curve tutte curve ecco 100 sono tutte curve ragazzi tutte curve destra 6 sudosso salta 80 tranquillo tranquillo sinistra 4 mezza lunga dosso destra 3 lunga dosso destra 3 lunga ottimo brado ottimo così guarda ragazzi sto andando bene sto andando bene qualcosa ho recuperato ecco ma la stronzata di fine gara comunque dovevo farla altrimenti non c'era un perché un per come però io credo ragazzi che qualche secondo ho recuperato credo che qualche secondo ho recuperato ho mantenuto il quarto posto ragazzi ho mantenuto il quarto posto vabbè qualche diciamo un po' di crediti li ho presi qualcosina ai 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 e in campionato diciamo nella classifica generale vado in seconda posizione vabbè allora ragazzi credo che per il momento basta qui con i gameplay di di tralli ci sentiremo per i prossimi gameplay questo gameplay si conclude qui l'ottavo gameplay e quindi appuntamento con i prossimi gameplay e le prossime gare ragazzi ciao a tutti dal vostro brado ciao aspettiamo magari che finisci il caricamento no vabbè interrompiamo qui ciao ragazzi ciao